un attaccante troppo spesso poco considerato che secondo me poi il Napoli negli anni si è anche un po' rimpianto perché quanto gli sarebbe servito soprattutto nella gestione Sarri un centravanti come Zapata un centravanti che sa giocare anche come esterno quindi era proprio perfetto per il gioco di Sarri oggi autore di una bellissima tripletta tra l'altro mi piace molto di lui il fatto che segna tutte le sue ex squadre e mi piace il fatto che appunto sa giocare indifferentemente sia da centravanti sia da esterno e con le stesse qualità perché comunque è fortissimo di testa ma è anche fortissimo in progressione a difendere il pallone tutto sommato nel dribbling no non tanto perché chiaramente la stazza fisica però quando se ne va in progressione non lo prendi secondo me è un calciatore che ha fatto una carriera forse non all'altezza di quello che è il suo reale valore perché probabilmente avrebbe anche meritato un top club nel senso a Napoli c'era arrivato perché comunque il Napoli ad oggi lo possiamo considerare sicuramente un top club qui in Italia però il Napoli all'epoca non lo vedeva non lo ha fatto giocare e gli ha risolto anche parecchie partite perché è uno di quegli attaccanti che quando tu lo metti negli ultimi minuti comunque nelle mischie riesce sempre a tirate fuori qualcosa di buono allora io volevo chiedervi un pensiero su questo Zapata che non scopriamo certo oggi ma che comunque a Bergamo devo dire sta trovando una sua collocazione specifica in una squadra che comunque si fa rispettare in ogni campo che va comunque gioca a un buon calcio e si fa rispettare scrivetemi sotto un vostro pensiero su Duvan Zapata grazie a tutti